Musica Venerdì 16 settembre, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. In apertura parliamo di rischio sismico, stavolta collegato alla sanità e agli ospedali. Secondo comitati e associazioni, la regione avrebbe attestato la rispondenza alle prescrizioni di legge per la cattolica senza disporre di alcuna documentazione, ora cittadinanza attiva. Forum della sanità pubblica si chiedono chi e perché ha attestato nel piano operativo il rispetto della normativa sismica. Sentiamo Pasquale Di Bello. Mentre da un lato si chiarisce l'annosa questione sul presunto rischio sismico dell'ospedale Cardarelli, questione del tutto destituita di fondamento, diventa invece un giallo la asserita sicurezza e adeguatezza della cattolica alla normativa antisismica. A sollevare la questione è una doppia segnalazione del Forum per la tutela della sanità pubblica e dell'Associazione Cittadinanza Attiva Tribunale per i diritti del malato. Nel corso di una conferenza stampa è stato il presidente del Forum Italo Testa a ricostruire la vicenda a Cardarelli, un manufatto realizzato a regola d'arte, secondo la normativa vigente al tempo della costruzione. Al pari di altri edifici il Cardarelli potrebbe essere oggetto di crollo solo in presenza di un sisma di proporzioni imponenti, ha detto Testa, ma davanti a tale sciagurata ipotesi ha aggiunto, verrebbe giù un mezzo mondo dal comune alla prefettura alla stessa cattolica, ha concluso con una nota di disappunto. La presunta vulnerabilità sismica del Cardarelli, ha detto Testa, è solo un espediente strumentale per giustificare il trasferimento di interi reparti dalla struttura pubblica a quella privata, in buona sostanza un meccanismo di suggestione e pressione psicologica sulla popolazione, tale da secondare il disegno di demolizione del sistema pubblico in favore di quello privato. Quello che però è emerso nel corso della conferenza stampa è che, riportato anche in una nota di cittadinanza attiva, è la totale assenza in mano pubblica di qualsivoglia documentazione che attesti l'adeguatezza del complesso della cattolica alla normativa vigente. Eppure, ed è questo il fatto grave, nel piano operativo voluto dal presidente commissario Frattura è scritto nero su bianco che la fondazione Giovanni Paolo II è una struttura ospedaliera moderna e razionale adeguata alla più recente normativa antisismica, antingentio e di sicurezza. Un'affermazione apodittica alla prova dei fatti resa veritiera per il sol fatto di essere stata messa nero su bianco all'interno del piano operativo scritto da un gruppo di burocrati pagati a peso d'oro e che in tal senso non dispongono di uno straccio di prova. È la stessa regione che interrogata ha ammesso e messo nero su bianco di non avere alcuna informazione per quanto attiene alla sicurezza sismica della cattolica. Carta canta, come si suol dire, in questo caso la canzone Frattura d'innocenso è piena di note stonate e quantomeno incauto affermare su un documento ufficiale qualcosa di cui non si approva. Chi e perché ha scritto nel piano operativo le parole che attestano la sicurezza della cattolica senza averne le prove? La questione potrebbe finire davanti alla giustizia, tra quelle che il forum intende sollevare. I musichieri regionali è proprio il caso di dirlo se la suonano e se la cantano ma i mulisani al loro tragico zecchino d'oro non intendono proprio partecipare. L'unione sindacale di base e il comitato genitori all'UPARA si sono riuniti lo scorso fine settimana in assemblea evidenziando anomalie nella struttura comunale che ospita le scuole. Hanno raccolto anche diverse firme. L'USB ha evidenziato che il sindaco evita il confronto esibendo un documento di agibilità di oltre dieci anni fa e ha continuato l'unione sindacale di base. Mancano il parere igienico-sanitario da parte dell'azienda sanitaria e altri documenti e certificati necessari. Anche alcuni consiglieri ha aggiunto il sindacato. Chiedono di utilizzare l'ex struttura di proprietà della chiesa che ospitava l'asilo già ristrutturata e ora abbandonata. Venerdì è previsto un nuovo incontro all'UPARA sul tema delle scuole sicure in paese. Tanti gli eventi per questo weekend. Vediamo gli appuntamenti a Castelpagano, Colle d'Anchise e Frosolone. Da questa sera fino a domenica sentiamo Patrizia Testa. Un fine settimana ricco di appuntamenti per tutti gli appassionati di musica e di buon cibo è alle porte. Ecco allora alcuni eventi che prendono il via nella serata di venerdì per andare avanti fino a domenica. A Castelpagano è la ventesima edizione della Sagra del Fungo Porcino. Si inizia con la pizza ai funghi porcini il venerdì, mentre sabato e domenica sarà servito un menù completo sempre a base di funghi. Il tutto avverrà in piazza Municipio. In piazza Casa della Terra invece, tutti e tre i giorni, è previsto un aperifungo. Inoltre solo sabato e domenica ci sarà la possibilità di un giro in elicottero o di un tour per le vie del paese su un trenino turistico. Ci spostiamo a Colle d'Anchise con Salta nel West. Il campo sportivo comunale si trasforma in un set per tre serate western con il saloon, la taverna e il menù a tema. L'ingresso è gratuito. Ad animare la prima serata ci sarà Anduccio. Sabato si potrà acquistare la prevendita del menù. Così insieme al pasto, cotechino e fagioli e un bicchiere di vino si riceverà un cappello da cowboy, una bandana ed un cucchiaio di legno. Domenica poi il pranzo western. Ogni sera giochi e attrazioni. A Frosolone va in scena l'Octoberfest del Molise. Da circa dieci anni Antichi Sapori di Colombina organizza questa festa tanto attesa. Lo spunto ovviamente è dato dal festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco di Baviera in Germania. Così a Frosolone saranno riproposti i piatti tipici del famoso festival. Lo stinco, i wustel, le costatine di maiale, le alette di pollo e patate crauti. Tutto accompagnato da tre diverse specialità di birra. Non mancherà la pizza, uno dei piatti tipici della nostra tradizione culinaria. E poi tanta musica, venerdì la serata latinoamericana, sabato musica fino a tardanotte, domenica infine piano bar e karaoke. È tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Partiamo con il giornale del Molise.it. Rischio sismico è giallo sulla Cattolica. Il piano operativo ne stabilisce la sicurezza, ma in regione non esistono documenti. È l'articolo a firma di Pasquale Di Bello. GAM slitta la firma. Poi appuntamenti il weekend a Castelpagano con le danchise Frosolone. Paura sull'autobus per Bonefro. A bordo un principio d'incendio. Ancora dal Libano al Del Giudice di Termoli per imparare la sicurezza alimentare. Vietri, ospedale Vietri, chiudono tutti i reparti, resta solo oculistica, dove si opera mettendo a rischio pazienti e medici e il virgolettato. Poi Isernia ufficiale, gli alunni della Don Bosco e della San Pietro Celestino in classe da lunedì. Trivelle sulla terraferma ed eolico selvaggio parte la battaglia del coordinamento interregionale. Rotaract a sostegno del Neuromed a Pozzilli nasce l'unità di bioinformatica. Termoli, Fabio Ficuciello, nuovo comandante dei carabinieri. E poi ci sono le altre notizie del giornaliedelmolise.it, dalla regione ma anche dall'Italia e dal mondo. E ci sono ancora editoriali, idee e opinioni. Fallisce il blitz di frattura sull'edilizia pubblica, centro-sinistra nel caos. Dal giornaliedelmolise.it passiamo a primo piano. Molise Sanità Forum all'attacco la regione Mente sulla sicurezza della Cattolica. Il Cardarelli è a rischio solo in caso di forte terremoto. Non si può dire lo stesso della fondazione. Il presidente testa, tira fuori un documento. Mancano le carte che attestano la staticità dal punto di vista sismico. Il rilancio della filiera avicola. GAM, falsa partenza. Slitta la firma del contratto di fitto dell'incubatoio. Poi in taglio alto, la donna salvata da un'amica, Venafrana 52enne, segregata a Maddaloni, liberata dai carabinieri. È stato arrestato la Guzzino. A Isernia, migranti dirottati al 118 e visitati sull'ambulanza. Scoppia il caso. Termoli, sfruttamento della prostituzione, riduzione in schiavitù, blitz della polizia tra Molise e Puglia. Isernia, scuole, da Pollonio, priorità all'incolumità dei bambini. La burocrazia non mi fermerà, ha detto il sindaco. Poi Campobasso, le strisce pedonali mandano in tilti il traffico in città, automobilisti imbufaliti. Le altre notizie. Campobasso, trasporto urbano, la SEAC, licenze a tre operai, in fruttuoso, oppure il vertice di ieri in prefettura. Pilotano il concorso per assumere il vigile urbano, sindaco e giunta nei guai Castelmauro. Poi calcio serie D, falcione all'attacco, a Liberti faccia fatti e non consulenze. Si parla di sport, l'ex sponsor non ho alcuna intenzione di rientrare. Per quanto riguarda il calciomercato, Campobasso, Simone Fioretti è il nuovo centravanti. Per l'eccellenza, Isernia ha presentato il nuovo progetto di Rienzo. Dice, ci sono basi solide. Questi sono i titoli di primo piano. Molise, passiamo al quotidiano del Molise. Forum sanità ospedale costruito a regola d'arte. Campobasso, il presidente Italo Testa, non è antisismico. Secondo la legge, può crollare solo in caso di grave terremoto. GAM, la firma per l'affitto a Dasco, prima di lunedì i sindacati tengono alta la guardia. Trivento, danni da maltempo, chiesto, mezzo milione soldi che servono solo per i primi interventi. Termoli, lavoro, nero, oggi i particolari del blitz. Poi per la cronaca giudiziaria, tesoro Angiolillo, il caso torna in Molise. Campobasso, truffa della gomma forata, la polizia avverte. Poi l'accusa di procura e finanza, abuso d'ufficio, concorso e assunzione del vigile urbano, neguai sindaco e giunta. Per quanto riguarda lo sport, calcio serie D, Campobasso alla corte di Novelli, arriva la punta a Fioretti. Sempre per la serie D agnonese, brutta a Tegola per Del Grosso, si ferma Capitan Litterio. Eccellenza, Isernia ieri all'Ancellotta, la presentazione di squadra e società, mentre per l'Atletica Corrisernia si è alzato il sipario sull'undicesima edizione. Vediamo adesso come titola Futuro Molise. Si insedia civile la consulta civica regionale per l'umanizzazione delle strutture ospedaliere. Poi Gamslitt alla firma del fitto di ramo d'azienda, le sigle sindacali esprimono preoccupazione sugli inquadramenti e i livelli retributivi mensili per gli operai. Campobasso furto nel centro commerciale, ottantenne depredato del portafogli con il trucco del pneumatico bucato, la polizia di Stato lancia l'allarme. Isernia attesa domenica prossima all'undicesima edizione della Corrisernia, valevole anche come sedicesimo Memorial Maurizio Di Placido. Poi c'è l'editoriale di Futuro Molise, ridateci la nostra storia, ridateci il macerone. Ci sono poi le altre notizie su Futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso, partiamo con la Repubblica. Renzi scontro con Lampi a casa solo se sfiduciato, dice il Premier. Bologna lite tra Renzi e militanti PD, Movimento 5 Stelle, Grillo, Raggi, non si tocca. E poi l'Italia non cresce da 15 anni. Allarme Confindustria, Padoan, abbiamo stime migliori sul PIL e c'è poi questa fotonotizia con Hillary Clinton che riprende la campagna elettorale, dice sono in forma. Attenti a quei due candidati che possono far perdere Hillary e l'articolo a firma di Federico Rampini. Dalla Repubblica passiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Raggi, attacco dai 5 Stelle. Roma, Lira di Virginia, basta accuse o mollo. L'anticorruzione, limiti e carenze nelle nomine Rai. Pronti alla sfiducia 12 consiglieri. Lombardi dice c'è un virus ma Grillo difende Virginia Raggi. Banca di Francia, appello per l'euro, un patto a tre con Berlino e Roma. Il caso Orlandi, la scomparsa di Emanuela, un mistero con troppe falsità. L'articolo a firma di Gian Antonio Stella. Passiamo adesso a vedere la prima pagina della stampa di Torino. Manovra, tagli per 5 miliardi. Bruxelles blocca la richiesta dell'Italia sulla flessibilità. I risparmi dovranno crescere. Vertice europeo, disaccordo sui migranti. Il Premier, l'Unione organizza i rimpatri. Confindustria di mezza le stime del governo. La crescita sarà dello 0,6%. Padoan dice riusciremo a fare meglio. Poi si parla della campagna elettorale negli Stati Uniti. Gli outsider che insidiano la corsa di Hillary Clinton al Verde Stein e al Libertario Johnson. Un terzo dei voti dei giovani e Trump rimonta nei sondaggi. Così la stampa. Vediamo adesso come titola il Fatto Quotidiano. Il Comitato per il Sì senza soldi, referendum. C'è un buco nella legge votata da poco sul finanziamento ai partiti. La norma che regola i rimborsi è stata scritta male. I fondi ci sono, ma manca l'indicazione di quale ente deve erogarli. Così arriva una banca amica. Poi Capitale senza pace, scontri a 5 Stelle. Grillo contro Lombardi. Non toccate la ragge. Il direttorio si sfascia. Tutto è legittimo. La RAI se ne frega di cantone. Scrive ancora il Fatto Quotidiano. Bocciate 11 nomine. Campo dall'orto. Fa lo scarica barile. Vediamo adesso come titolo invece libero. Arrivano 235 mila migranti. Si annuncia una catastrofe. Non è allarmismo, ma la previsione del responsabile ONU in Libia. sbarcheranno tutti sulle nostre coste. L'Europa, anziché investire per creare benessere in Africa, spende i soldi per mantenerli qui, attirando sempre più disperati. Poi c'è questo titolo provocatorio. L'America è un cesso d'oro di Luca Telese. L'opera di Cattelan è esposta a New York. Poi intervista con il presidente di Mediolanum, Ennio Doris. Viva la Brexit a basso euro e Germania. Da libero passiamo a vedere come titola Il Tempo. Vescovi 007 e Massoni. Inchiesta bomba, traffici d'oro e associazione per delinquere. Nelle carte il latitante Matacena, l'Aise e il Grande Oriente. E poi la lettera di Bisignani. Scoppia la guerra dei mandarini della pubblica amministrazione. Sentenza della Corte Europea. Il Vaticano non pagherà l'ICI arretrato. Dal tempo passiamo a vedere il manifesto. Merce umana è il titolo in evidenza. Questa fotonotizia scioperava per i diritti dei precari alla GLS, azienda di logistica di Piacenza. L'operaio egiziano di 53 anni è stato travolto e ucciso da un tir durante un picchetto notturno alla sede di una ditta appaltatrice. L'Unione sindacale di base accusa l'autista incitato a forzare il blocco ma per la procura e omicidio stradale proteste anche a Roma. Poi Renzi smuraglia le due Italie. Alla fine fischi per il Premier. A Bologna il dibattito sulle riforme con Lampi. Vediamo come titola adesso il mattino di Napoli. Calenda, lavoro, basta, sgravi, crisi lunga. Aiutiamo le imprese che investono. Dal referendum governance più forte, il ministro dello sviluppo, la strada della crescita e l'innovazione anche al sud. Poi Tiziana, quattro indagati, video ancora online, la denuncia della ragazza in procura ferma per un anno. C'è questa foto a Castelnuova ai funerali di Tiziana Cantone, la disperazione della mamma Maria Teresa Giglio. Vediamo adesso il messaggero Casoraggi, Movimento 5 Stelle in Frantumi. La Lombardia attacca il sindaco, il suo braccio destro infetta il movimento. La Ruocco approva Virginia in lacrime, chiama Grillo, difendimi o mi dimetto il leader, hai tutta la mia fiducia. Statali in nodo risorse spunta il piano del contratto ponte. Il Governo valuta la possibilità di erogare un'indennità rafforzata solo per il 2017. E adesso vediamo come titola invece avvenire il quotidiano dei Vescovi, i dimenticati. Il fatto tra la Siria e Giordania, 75 mila profughi sono bloccati nel deserto senza cibo, tra la vita e la morte, la denuncia di Amnesty. Le foto delle tombe, vedete appunto questa foto. Morire di conflitto, operaio travolto da Tir, Piacenza per la procura, un incidente stradale, protestano i sindacati di base. E poi Bagnasco alla messa di apertura, in questo tempo angosciato, Dio non lascia orfano nessuno. Si parla del congresso eucaristico nazionale. Il secolo d'Italia, questo è il titolo in evidenza, ciao Tiziana. E poi ancora non c'è privacy sui social, l'allarme del garante e Made in China ci invade, addio ai nostri artigiani. Trump, io sto benissimo e attacca ancora Hillary, così il secolo d'Italia. Vediamo adesso come titola il sole 24 ore. L'Italia frena PIL, prodotto interno lordo a più 0,7%, boccia, patto per la crescita, puntare su produttività, investimenti, finanza per l'impresa. Riviste al ribasso le stime, più 0,5% nel 2017. Padoan, previsioni del governo migliori grazie alle misure in arrivo. Il centro studi di Confindustria ha rivisto, ribasso, le stime sulla crescita del prodotto interno lordo. Vediamo l'altro titolo. Flessione negli Stati Uniti allontana la stretta Fed. Wall Street chiude a più 1%, piazza affari in recupero più 0,34%. Le borse girano a rialzo dopo la pubblicazione dei dati macroeconomici deludenti. Vediamo adesso la gazzetta dello sport. C'è questo titolo. Inter, ma non ti vergogni, disfatta San Siro, perde 2-0 con l'Apoel, la squadra israeliana. De Boer, il tecnico sotto accusa, nerazzurri inguardabili, né gioco né cuore contro gli israeliani. Il tecnico dice troppe partite, dovevo fare turnover. Il commento di Nicola Cecere, un tonfo umiliante e senza attenuanti. Poi, Sassuolo Show, pari Roma e Viola. In Euroleague vincono solo gli emiliani. Lirola, De Frel, Politano stendono l'Atletic. Bilbao 3-0, giallorossi rimontati dal Victoria 1-1. Nella Fiorentina 0-0 col Paoc. Scoppia la questione Bernardeschi. Murigno cade, Balotelli e Nizza. K.O. Poi Bonucci in difesa della Juve. Ma i tifosi mi hanno deluso, dice il difensore. Mugugni già dopo 20 minuti. Chiellini, noi non siamo il Real. Poi Montella dà la carica al Milan. Ci vuole orgoglio, dice. Questi sono alcuni dei titoli della Gazzetta dello Sport. La nostra rassegna stampa finisce qui. Vi diamo appuntamento come sempre alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.